Buonasera, da Avenjo e Mike Mi presenti sempre come sei caro, ragazzi Eh, lo so, lo so Contata 2 Esatto, di Airstone Heroes of Warcraft Andremo a giocare, come avevamo detto l'altra volta Con il mazzo Warlock, quindi lo Stregone E il mazzo Paladino Particolarità di uno e dell'altro è che Uno tende a farsi danni per avere più carte E l'altro tende a evocare tanti seguitori Novità Da questa puntata qui, se ci riesce Vi collegate alla... Se vi riesce, via Che volevo dire? Trova le parole, perché? Trovo le parole Niente... Volevo dire una cosa, ma mi sono... Impacciato un po' Scherzetto! Dai Mike, sono scherzato Scherza, lui scherza Ho messo in difficoltà con questa... Nell'inizio Eh sì È scherzamente Scherzamente Ora sì che sono... Posso invadere la tua telecamera? No Che ci fai nell'avviare la telecamera? Stone da me Vediamo un po' se riusciamo ad aumentare il ratio vittorie Uno vinta una persa Comunque è qualcosa di più... Succoso Ma se sei così sfavato... È che... Beh Questa tipo... Ups Cosa ti preoccupa? Ah Anduin non mi preoccupa È 18 Tra l'altro Sì Perché quando il 17 non ha stelle di rank gioca contro il 18 Quando hai tutte le stelle gioca contro il 16 I Rayman ottima per cominciare Vai Andiamo un A Salve 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 Non salutarvi Non interagire, dai Salute Bisogna essere cordiali per le avanzare cordiali Anche se c'è una gamma in track molto frutta Spinks chiudiamo le porte di ottima mi sta prendendo in giro mi sta prendendo in giro eh si e per ora gioco è abbastanza tranquillo lui non ha evocato niente, probabilmente c'ha un manuale però tipo ma non ha senso perchè evocarlo senza che poi si vede che poteva assoluta non è nulla no? uomo in tuff beh fregata no nulla è spiegato adesso questo è massimo la leviamo così di culo e andiamo avanti con tre danni due danni proprio tiriamo le bricele ora scondo i portali posso ridurre i costi di quattro se ti può piacere la cosa infatti io adoro quella cassa lui l'adorerà un po' meno anche perchè tra un po' l'inserito rilocciamento costerà 3 la cosa dovrebbe non piacere si sommare si urca però però eppure la silenziata non si sommare naturalmente queste sono partite classificate quindi i giocatori non sono stupidi sono giocatori molto semplici tra l'altro c'è pure una carta che non mi serve un cavolo quindi quindi io colgo l'occasione per ricordare ai nostri telespettatori e seguitori seguaci che devo fare i seguaci devo farmi i capelli ma non lo voglio vabbè tornando a resto eeeh ora me lo leverà sicuramente perchè oddio secondo me non se lo aspetta in realtà che te che tu insomma hai capito tu ne metti in alto lo vede c'ha le creature anche se non si aspetta si vabbè ma di solito si arrangiano eccolo ehi ecco l'altro scassapogli guarda come non se lo aspetta ora se lo spiega lui come non se lo aspetta ah ok in 4-3 stupita strano che non si cura la creatura di solito si vabbè c'ha di meglio aspetta raddoppia dobbiamo purificare il peggio peggio io non lo curo test ci vorrebbe deathwing già adesso eeeh io sono dei testi ti metti nessi deathwing un video si 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 anche nel pane buono il pane un po' piccante really professional non riesce eh fff that bug lui tipo ok ragazzi voi vedete io lo chiamo e lui gli sente e 무슨 che아 enviva perch filing che trava che � alguma adesso č riefa che arriva non so se te lo ricordi io ne avevo ricordi Non era esattamente una pesta Poi, Deathwing Nome d'arte italiana Alla morte E noi intanto li tiriamo Vada puttata Devo pensarci bene Devo pensarci bene, Mike Perché? No, lo dice lui Sì Perché Mike fai ciò? Perché Perché chiede scusa Ora Voglio vedere come se la rigira Perché trovo una maniera sicuramente Complicatissima per rigirarsela Ora fa due danni a tutti Grazie Perché sta facendo tutte le cose che faccio anche io Cioè Giustamente lui non ti caga Dette cose Una cosa inutile Ci scappa da ridere A me non capo che le farei Come si lo messi? Ma Poteva essere peggio Ti ha detto bella ciò Ah, non apresco una carta? No Troppi poi punti vita Per mettere sempre scaricarti Lasciamo tutto dalla morte Sì Se arrivo al decimo tu No Ti sto spronando sempre Usare la morte Non ti devi fare la tua strategia Che è sempre quella più Non ti devi sperare Di senso Eh, lo devi curare anche dopo No, no Anche ora Ora vedi Lui spererebbe anche io Non avessi La parte per difendere No Ce l'hai più tanti No? Effettamente Un'otto Qualcosa ci avrei Ma Dove devi usare più forza Votterò giù anche lui Cosa fa? Eh, lui distrugge Qualsiasi servitore Che entra in contatto con lui E Vale Basta sferarlo Non è male come È un kamikaze Non si male Quanto costa L'hai detto nel campo? Sì Ah no Un discreto valore di vita Quindi Un mazzo paladino Gioca molto bene O anche In un mazzo Saci e d'oro E noi giustamente Giochiamo in un mazzo Sto qua Giustamente Facciamo tutto al contrario No E ora Che cacchio È arrivato Capite però Che la cosa Sta diventando Insostenibile Perché a me Quella l'altra non vale Non vale Non continuo a chiederselo Eh Mike Devi riuscire Non riuscire mai A mitigare il dam Non ce la fai Ce l'ho mitigato il dam Cosa? Che mitigò tutto Ok Allora dobbiamo cercare Di resistere Prima al prossimo turno Ce la puoi fare? Posso sperare Se vuoi Fargli fuori qualcuno Quella Ah Eh Ah Ah Perché mi può picchiare con tutto Ma con il transdingolo Ma hai perso Non lo so Eh sì che hai perso Dipende da lui Da lui Ti attacca con uno Mi muore Eh È perso Sì Fa un culo Non l'avevi visto? L'avevo visto ma Queste partite no Oddio Quanto era che non vedevo Rank 18 Quanto era? Ragazzi Si va avanti Vediamo Almeno col paladino Si riesce a fare qualcosa Perché veramente Deve essere la giornata Dei Dei grandi giocatori Perché Oh E tu sei un grande giocatore Io ero un grande giocatore Ok Allora diciamo Pesi extra Dai no È il momento di Fare un po' Poi no sul serio È il momento Mike Eh sì Mazz Paladino è il tuo Mazz Vai a vedere Io sono un sacerdote Sono un paladino E allora perché non hai un sacerdote? Perché avevamo come un sacerdote Spettatori Avremmo usato Ok ok Non siamo qui per vincere Ma siamo qui per Siamo qui per dare un'idea Dei mazzi Poi Quando Sarà fatta l'idea Dei mazzi Si gioca su un serio Non è una mano a te No Non mi è congeniale per niente Perché a me D'inizio a giocatore al quarto turno Proprio Anche lui mi sembra un po' Diffiuta Ma tanto Lante Giova subito Tanto se lui almeno per un turno Non giocasse niente Ecco Io che devo fare però Ma se non ce lo puoi levalo Levalo allora Ma si Un'unica leggendale che ho Tutto il gioco Ma la malata è alta Quindi c'è se posso Buon lì Siamo il contatto Con quella Si si Stiamo nel nostro Tanto lo distruggiamo Insomma Insomma Non so mia se ho gradito Spiegali che non ho gradito Per niente Non ha gradito Non so se ci sente No non ci sente Però non ho gradito Ok Si riparte da capo No Da capo no Si Ho un'arma No Ta zzinghiamo pure noi Che ne penso Non ci ho preso Tutto il box Oh Scusate Ta zzinghiamo Ah Vediamo un po' Vorrei poter dire Salsimbo E invece ha fatto una discherata Come mai? Spiegoci Mike No, sono a colci Meglio Ci sono anche qualche carta a mano Quindi se dovrebbero riuscire a svolgere la partita abbastanza bene Ma anche lui ha fatto in mano, scusate Non mi aspettavo niente di meno da un ante Stiamo pure ridassati Non ha messo niente Tutto regolare per adesso Possiamo anche pescare Ma noi Fuck Perché? Siamo paladine Tanto me lo secca subito Per lontano la puntero su 6 punti vita e sono tornato Quello lo stava aspettando Mi ha un'arma È un'arma un po' particolare Perché tutte le volte che attivi un segreto Riprende integrità È molto particolare Il mazzo Hunter è pieno di segreti Quindi Però Però noi che si fa Facciamo Ci spusiamo sopra Questa carta qui secondo me non se l'aspettavo No, proprio per l'uomo Poi io Ottima questa La tengo tutte le volte che giochiamo Sì, sì, fa bene Contro quei tipi lì Avanti tutta? Vorrei Hai fatto bene No? Sì, sì, perché so quel Non ti prego, non quella Quella sì Perfetto È perfetto Insomma, perché io se lo beccavo Se poi mi si doveva schiantare loro due Sarebbe stata Sarebbe stata Sarebbe stata Però tanto vedi lui come fa Che fa? Io senti Ho già sentito uno Vabbè, però fa sempre sette danni Sì, ha logre praticamente Perché? Perché è l'unico modo sano di usarmi Sarebbe un po' Poi io, sì Sì, boh, sette e cinque Somma, siete il boss, dai Sì, faccio così Attacchiamo diretti, allora Cosa fai adesso? Attacchiamo diretti Eh sì Partita avvincente, ragazzi Uh, la telecamera mi si è un po' Mi si è un po' spostato la telecamera Sì Che cose succedono? Scusate per il temore Questa partita Lui c'ho a segreti, sì Ovviamente attaccherai col 1-1 diretto Col 1-1? Col 1-1 muore quando gli attacco diretto Su Giacomo si è quel segreto lì Che si è quel segreto Quando attacco una creatura Lui infligge due danni Tutte le creature Scritto, ecco Allora è Deathwing No Prima ci leviamo lì, torno agli affari E poi attacchiamo con 2-1 Dopo comandiamo l'1 avanti Perché No, non era quella che pensavo io Vuol dire che non ha ancora il livello per usarla Che fai, che fai, che fai Ah, vedevo che Fai un cazzo Sbende E qui le cose cominciano a farsi un po' dure Eh no, a questo punto sembrerebbe quasi fatta Però Eh no Non si dice mai Perché lo dici? Eh, vedi, ora lui che fa Tira su... Eh, tira su una mia protezione Eh, ma non è mica male un 5-4 Ma che perché devi dire sempre che la partita è fatta? Sono positivista Tratiri Sui piedi magari a volte Sono un po' spavista Che positiviamo in meraviglia Guarda, se vuoi mi rimetto anche qualche punto saluto Un altro Eh, perci dai, ci piace Ma come? Ci sei tirato Ci sono anche me li inserendo Eh, ritirarsi è più adulto Ma insomma livello è 18 Devo dire Ma la stella la perde comunque Sì, sì La perde Due Ragazzi, abbiamo vinto E questo era il paladino Non riusciamo mai a fare 2-2 di fila Uno, una vinta, una pezza Almeno così si dà un po' di Buon tentare la partita Sì, lo so Non è un motto che si sente molto spesso No, ma noi abbiamo i nostri motto Per quello che siamo unici rispetto agli altri Però vuol dire che Cioè almeno così si vede un po' qual è il gioco Quindi la prossima volta userai il tuo mazzo? La prossima volta Insieme al mio mazzo sacerdote Useremo Useremo un altro mazzo che mi piace tanto Che è lo Shamano con Tral Perché è veramente un mazzo bellissimo Allora ragazzi Alla prossima Alla prossima puntata da E Mike Buonanotte 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 Qui ci viene il fenomeno o qui ci siete il fenomeno? No, qui ci viene il fenomeno Grazie a tutti